A Montecitorio approda la numero due della lista del partito democratico Stefania Di Padova, vanificando le ambizioni del capolista di azioni Italia Viva Giulio Sottanelli e anche quelle del leader regionale della Lega Luigi Deramo, che restano fuori dagli eletti. La Di Padova ce l'ha fatta grazie al cosiddetto flipper, cioè il complicatissimo sistema nazionale di redistribuzione dei resti dei voti, che ha tenuto col fiato sospeso fino a ieri sera alcuni dei candidati in bilico nel collegio abruzzese del proporzionale alla Camera. È stata una giornata intensa, una giornata emozionante e alla fine quello che noi abbiamo sempre sostenuto in una campagna elettorale che è stata emozionante è perché ci ha riportato a quello che era il nostro popolo del partito democratico, raccogliendo sia le critiche, come era giusto che fosse, ma anche gli stimoli giusti e necessari per andare avanti e portare soprattutto avanti ora più che mai un progetto unitario del partito democratico, soprattutto abruzzese e provinciale. La Di Padova ha anche dichiarato che questa legge elettorale deve essere cambiata. Noi faremo opposizione, avrò un occhio di riguardo per questa provincia affinché non si senta più orfana dopo aver rischiato di non eleggere rappresentanti in Parlamento. Vivo la mia città, la mia provincia e so quanto sia sofferente e carente in questi anni di una rappresentatività seria che faccia riportare la provincia di Teramo al giusto ruolo perché fin troppo abbiamo, tante volte abbiamo detto che Teramo era la cenerentola d'Abruzzo. Adesso siamo una squadra, lavoreremo trasversalmente come siamo da sempre abituati a fare, con tutti perché abbiamo un unico obiettivo comune e che è quello di dare voce a questo territorio. Ricordiamo che la Di Padova è anche assessora al comune di Teramo con deleghe importanti e per questo motivo a stretto giro incontrerà il sindaco D'Alberto per fare il punto. Io sono pronta a portare avanti quelle che sono le mie deleghe per il mio territorio, per la mia città. Penso di aver lavorato bene in questi anni, mancano soltanto otto mesi e sono con la mia amministrazione, con la mia città, anche perché poi ci sono altre sfide importanti come abbiamo detto in campagna elettorale, che sono sia le amministrative di questo comune che la regione. Quindi è un lavoro continuo e quotidiano. Oggi siamo nell'allegria, nella gioia per questo risultato, ma da domani saremo operativi come non mai.